la dove c'è il sole è il monte penna monte alto monte romanella comunque ci troviamo sul monte penna il mese di gennaio qua la neve si scioglie subito perché è esposta sempre al sole dal momento che sorge fino alla data del tramonto prosegue la mia escursione qua ci sono due tipi di ginebri ginebri dalle bacche rosse e ginebri dalle bacche azzurra e qui vi conduco attraverso la storia qui è pieno di antichi terrazzamenti adesso ho fatto qui c'è un po di ombra c'è un po di neve però più sotto non dovrebbe esserci adesso io proseguo verso nord ovest vediamo cosa faccio un vecchio sentiero per sicuramente applicato ecco qua l'altro terrazzamento adesso io questa zona sottostante la conosco benissimo adesso faccio un giro e scendo là vi faccio vedere una bella cosa